Martedì 5 giugno, sul palco del Teatro Rossini, arriva la rock star della fisica Gabriella Grayson con lo spettacolo teatrale La Donna della Bomba Atomica. Si tratta dell'appuntamento di chiusura della rassegna di Torno Girando, organizzata dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ente Olivieri, con la collaborazione di Pindore Venti per questo specifico ultimo spettacolo. La Donna della Bomba Atomica narra la vicenda di Leona Wutz, fisica dimenticata della storia, che aveva un ruolo fondamentale nella realizzazione della bomba atomica. Fu infatti scelta da Enrico Fermi per il progetto Manhattan, lavorò al fianco di Oppenheimer in un contesto scientifico da sempre a pannaggio del mondo maschile. Abbiamo voluto portare a Pesaro al Teatro Rossini Gabriella Grayson, una vecchia amica di Pindaro. Gabriella infatti si è occupata di tante cose durante la sua carriera, di sport in quanto era scrittrice, giornalista per la Gazzetta dello Sport e di Sport Week. Poi ha collaborato a realizzare delle biografie di anche grandi attori, ma la sua passione è sempre rimasta quella della fisica. Quindi ha avuto il desiderio, poi nel corso della sua carriera, di divulgare la fisica e di renderla accessibile a tutti, cercando di spiegare le vicende di tanti fisici in maniera pop, ma allo stesso tempo conservando quel rigore di linguaggio e di competenza che le deriva dall'essere appunto laureata in fisica, ad essere le stesse una scienziata. Aspettando l'ultimo spettacolo ad ingresso gratuito c'è soddisfazione per l'esito della prima edizione di Ditorno Girando. Abbiamo avuto un grande riscontro dal pubblico, da chi insomma siamo andati ad interessare nei diversi luoghi che abbiamo toccato all'interno della nostra provincia ed è stato un percorso che è iniziato a settembre dell'anno scorso e ci ha portato avanti per dieci appuntamenti, questo sarà il decimo appuntamento, per appunto fare conoscere e scoprire la ricchezza e la bellezza del nostro territorio. È stato un grande successo e quindi qui dico che sarà sicuramente non l'ultima occasione ma anzi la prima di una serie di altri eventi che stiamo programmando per gli anni prossimi.